Aumenta l'offerta formativa universitaria a Caltanissetta con l'attivazione del corso in infermieristica grazie al bando emanato dall'Università di Palermo. Gli studenti nisseni potranno così seguire le lezioni del corso abilitante alla professione di infermiere in città senza doversi spostare. Soddisfatto il presidente del consorzio universitario nisseno Walter Tesauro il quale ha sottolineato l'importanza del corso spiegando che le lezioni si svolgeranno nel centro storico in una sede ancora da stabilire. Il corso è a numero chiuso e dentro il prossimo 24 agosto i candidati dovranno presentare la domanda unitamente al versamento di una quota di 55 euro per partecipare alla prova di selezione che prenderà il via il prossimo 15 settembre alle 13. L'avvocato Tesauro ha inoltre precisato che il consorzio sta lavorando anche per valorizzare la sede universitaria di via real maestranza dove aveva sede il corso di ingegneria elettrica per organizzare nuovi master e corsi di formazione.